Buonasera, buonasera e benvenuti a Casa La Terza. Io sono Lia Di Trapani, sono una editora della casettrice e oggi sono molto contenta di poter ospitare in questo nostro format Casa La Terza la presentazione di un libro che è uscito pochissime settimane fa ed è il libro di Monsignor Vincenzo Paglia che saluto e che ringrazio per essere qui con noi stasera e il libro si intitola La Forza della Fragilità. A dialogare con Monsignor Paglia abbiamo l'onore di avere il professor Massimo Recalcati che pure ringrazio moltissimo per questa sua disponibilità. Buonasera professore. Buonasera. Entrambi i nostri ospiti, non è una formula di rito e la verità, non avrebbero bisogno di presentazioni ma mi sembra comunque giusto dire almeno due parole sui loro profili professionali. Partendo dal nostro autore ricordiamo che Vincenzo Paglia è presidente della Pontificia Accademia per la Vita, consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio e tra le tante altre attività e titoli voglio segnalare che da ultimo coordina la Commissione Governativa per le politiche in favore della popolazione anziana in Italia e quindi come dire si occupa in maniera diretta di un segmento fragile della nostra popolazione. È autore di molte pubblicazioni, questo è il terzo libro che Monsignor Paglia pubblica con la Casa Editrice La Terza ed è una delle voci più ascoltate non solo nel mondo della Chiesa ma direi nel dibattito pubblico del nostro paese. Il professor Ricalcati è psicoanalista, esercita la sua professione a Milano, ha svolto attività didattica in un'importante università a Pavia e a Verona ed è direttore scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. Anche il professor Ricalcati è una voce presente e ascoltata tra quelle dei nostri intellettuali, scrive spesso su Repubblica, è autore di numerosi testi, alcuni di taglio più scientifico e di ricerca, altri di alta ed efficace divulgazione. Voglio nominare in particolare l'ultimo libro che è veramente uscito da pochi giorni credo addirittura con l'editore Feltrinelli che si intitola Pasolini, il fantasma dell'origine. Allora, come vi dicevo prima nello spazio di pochi minuti che ci siamo presi a modi prima, appunto prima della diretta, vi dicevo ed è la verità che sono davvero curiosa di ascoltarvi e contenta di aver organizzato questo dialogo perché entrambi per la vostra formazione, per la vostra attività di ricerca e studio e per la vostra pratica quotidiana vi confrontate quotidianamente con quello che è l'oggetto di questo libro, ovvero la fragilità. Sarà interessante venire a confronto queste esperienze e pratiche, riflessioni diverse. Partirei solo da quello che è l'avvio del volume di Monsignor Paglia. Il volume di Monsignor Paglia prende le mosse da una constatazione, quella cioè che la fragilità è una dimensione costitutiva dell'essere umano e tuttavia ci siamo forse ricordati violentemente del fatto che la fragilità sia una dimensione costitutiva dell'essere umano proprio recentemente alla luce delle tragiche vicende legate alla pandemia. La pandemia ci ha messo di fronte con brutalità, di fronte appunto alla nostra mortalità, alla nostra vulnerabilità sotto il profilo della salute. La pandemia ci ha messo in più chiarezza davanti agli occhi la situazione di tanti segmenti della popolazione che è stata esposta più di altri a rischio, la popolazione anziana in primis. E in qualche modo questa ultima stagione che abbiamo vissuto ci ha svegliato un po' da un lungo sonno in cui forse ci volevamo indire di non essere fragili. Scrive Monsignor Paglia in apertura nel primo capitolo, nella mentalità comune la fragilità è l'immagine della debolezza, quindi di una condizione negativa, persino dannosa. Questa è stata a lungo e per certi versi ancora l'immagine così che la nostra società, i nostri modelli culturali ci trasmettono in quanto al tema fragilità. Ecco, su questo volevo sollecitare da subito il professor Recalcati per chiedergli se, come dire, nella sua esperienza anche lui ritiene che la fragilità è una dimensione da cui si ritiene di doversi difendere, una dimensione di cui addirittura ci si vergogna. Volevo appunto un confronto rispetto a questo avvio del volume. La fragilità com'è vista mediamente ed è cambiato qualcosa negli ultimi tempi? Beh, intanto grazie per questo invito. È per me un piacere essere qui e discutere questo libro. Come spesso mi capita negli ultimi tempi, trovo sempre un'assonanza maggiore nella lettura diciamo di certi autori religiosi, come Vincenzo Paglia, che non nei confronti degli psicanalisti. Sarà un problema questo, non lo so, della mia disciplina forse. E perché questo libro, a mio giudizio, insomma, è un libro importante e, come dire, converge anche con diverse riflessioni che nel campo della psicanalisi noi stiamo facendo? E beh, perché appunto intanto isola questa parola chiave, che è la parola fragilità, che è una parola, come giustamente lei ha detto, attraversa anche l'esperienza della psicanalisi. Fragili significa che noi siamo destinati alla morte, che la nostra vita è finita, che la sofferenza è inaggirabile, che non siamo, come dire, padroni delle nostre origini e che non siamo autosufficienti, non siamo ens causa sui, non siamo causa di noi stessi. Ma a partire da questa idea di fragilità è chiaro che lo sfondo di questo libro è, come ricordava, l'esperienza traumatica del Covid. Allora, questa esperienza viene tradotta da Monsignor Paglia come un magistero. Ed è importante fare questa traduzione, no? Non è solo un trauma quello che abbiamo vissuto, ma nel trauma c'è un magistero. E qual è il magistero del trauma? Beh, è quello che i nostri sforzi collettivi, soprattutto diciamo in questo secolo, in questo nuovo secolo, di negazione ostinata del limite, di negazione ostinata della fragilità, la nostra retorica, come diceva Rosmini, diciamo, della smisurata felicità come obbligo, la retorica della smisurata felicità che finisce per cancellare la sofferenza, la morte, la povertà, la malattia. E beh, tutto questo, cioè tutto questo grande sogno di potenza, si è ribaltato nel suo contrario. Per cui noi abbiamo vissuto un trauma e il trauma, dal punto di vista proprio anche clinico, è l'esperienza per la quale un soggetto passa bruscamente da una condizione di potenza a una condizione di impotenza e di fragilità. Come dire, la fragilità emerge violentemente, tanto quanto ostinati erano i nostri sforzi a cancellarla, cioè a rimuoverla, cioè a negarla. E questo mi pare il primo punto, no? La prima lezione che poi questo libro isola molto bene della pandemia è appunto quella di averci confrontato nuovamente e questo confronto è inaggirabile e per certi versi definisce l'umano, definisce la forma umana della vita con il nostro limite. Con un'aggiunta che di fronte al limite, e qui introduco un binomio che non è così esplicito nel libro, ma appunto sono interessato a sentire Monsignore cosa ne pensa, ma penso di non tradire la sua ispirazione, rispetto a questo limite si è reagito attraverso due diversi atteggiamenti. Il primo atteggiamento è quello della paura. Noi abbiamo avuto paura. Noi ci siamo sentiti smarriti. La paura è il contrario della potenza. Noi ci siamo sentiti smarriti e abbiamo avuto paura come avevamo paura dello straniero prima che apparisse il virus, come abbiamo paura diciamo di ciò che non conosciamo, come abbiamo paura dell'ignoto, come abbiamo paura della morte diciamo. No? Abbiamo avuto paura e una risposta nei confronti della paura è l'isolamento, è il chiudersi, è il ripararsi, è rafforzare i confini. Lo vediamo anche oggi, no? In questo secondo incubo terribile della guerra che ha il suo fondamento è una paura, paura di essere aggrediti, dunque aggredisco perché ho paura di essere aggredito. La paura. Si può fondare un legame sociale sulla paura? La paura può essere il fondamento di un legame sociale generativo. La paura può essere il fondamento di una fratellanza. Noi sappiamo che la nascita dello stato moderno, diciamo, del patto sociale avviene attraverso la paura. È la grande tesi di Hobbes, no? Gli esseri umani si mettono insieme perché condividono la paura, la paura della morte. Se lo stato di natura è guerra di tutti contro tutti, allora bisogna, come dire, ripararci dando al leviatano il potere di stabilire la legge e di proteggere le vite. Ma la paura non è la parola scelta da Vincenzo Paglia in questo libro. L'altra parola che apre un altro tipo di prospettiva è la parola fragilità. Non è solo una constatazione che esistono dei limiti, ma è un modo di pensare il legame sociale. Cioè, e qui arrivo a concludere, visto che non voglio prendere, tenere troppo la parola, no? Se noi mettiamo da una parte l'origine del legame sociale a partire dalla paura. Hobbes, il leviatano, la guerra di tutti contro tutti, no? Il difendersi dall'altro. E dall'altra parte l'idea che esista un punto di comunione, di condivisione, che è legato dal fatto di sentirci, come Paglia ripete spesso nel libro, no? E mi pare essere un filo rosso del libro, uniti, come dire, nella sofferenza che abbiamo vissuto, uniti nella precarietà che abbiamo sperimentato, uniti nella cura che ciascuno dedica all'altro nel tempo della maggior difficoltà e del maggior smarrimento. Allora, un conto è la risposta che si genera dalla paura, un altro conto è la risposta che si genera dal riconoscersi, avere lo stesso destino, la stessa cifra, che è quella appunto dell'essere umano. Allora, qui in questo senso contrapporrei a Hobbes, lo stato di natura, guerra di tutti contro tutti, una grande figura biblica che non è citata nel libro, ma insomma, che è la figura di Giobbe, che è la figura, diciamo, della sofferenza, perché su quello si può costruire un autentico patto sociale, sul riconoscimento reciproco che senza l'altro noi siamo perduti. Grazie, professore, per queste prime riflessioni e per questi stimoli che appena veramente a molte direzioni di approfondimento, ovviamente do subito la parola a Monsignor Paglia, ma volevo sottolineare tra i passaggi appunto interessanti che abbiamo ascoltato fin qui, uno in particolare ed è quello legato alla paura come esito della consapevolezza della propria fragilità e al fatto che, diceva il professore Calcati, la paura può avere come conseguenza ulteriore l'isolamento. Ho paura e quindi mi rinchiudo, ho paura, come dire, alzo i muri. È una strada possibile, è una conseguenza verosimile, più che verosimile, diciamo, spesso reale e però, Vincenzo, ti solleciterai anche su questo punto, è esattamente, come dire, la strada che tu temi più di tutte le altre perché il libro è un'esortazione costante, lo ha ricordato anche il professore Calcati, ha una risposta che sia al plurale. Allora, ti chiederei nell'approfondire alcune delle sollecitazioni che già abbiamo avuto fin qui di toccare in particolare anche questo tema della paura e delle direzioni pericolose che essa può prendere. Grazie. Sì, io ringrazio anche per l'invito, non solo ma anche per aver ascoltato alcune riflessioni di Massimo Re Calcati che, come spesso accade, arricchiscono quello che uno ha già scritto e permettono di approfondire e anche di condurre anche un po' oltre le riflessioni che uno, che si fissano sul libro. In effetti la spinta a sottolineare il magistero del Covid, cioè è stata una grande lezione e la grande lezione è che nel pieno della nostra, come dire, esuberanza tecnologica, nel pieno dello sviluppo, è bastato un piccolo essere invisibile, per di più parassita, neppure vivente, che ci ha messi tutti in ginocchio. Tutti e tutto. Ora, questa lezione terribile della riscoperta tragica della fragilità ha però comportato, e questo per me è un punto importante per chi ha potuto viverlo, io l'ho vissuto, anche una reazione singolare di molti. Io ho visto crescere durante la pandemia spinte solidaristiche belle, analogamente a quello che un po' sta succedendo ora con la guerra. Se noi pensiamo che fino a pochi mesi fa i confini dell'est Europa erano segnati da filo spinato, oggi vediamo una grande apertura, non direi più che dei governi della popolazione, cioè la fragilità allora, se per un verso ci fa riscoprire la paura, per l'altro verso ha come nel suo profondo una forza positiva, che è la forza che si sperimenta quando, se ci si unisce tra fragili, si supera il pericolo, si superano le difficoltà, anzi viene fino ad emergere l'urgenza di una nuova visione. Quando si è fragili c'è una sensibilità in più, che è quella di sentire il bisogno di aiuto, che è quella di urlare aiuto, che è quella di stendere la mano, che è quella anche di di riconoscere più facilmente la fragilità dell'altro. Diceva un antico monoco benedittino medievale ubi amor ibi oculos. Se c'è un po' d'amore ci sono occhi per vedere. Ecco perché allora la fragilità può essere anche, come dire, una spinta a riconoscersi vicini e a scegliere la vicinanza de facto in una fraternità di scelta. A fare di ciò che abbiamo visto esistere nella biologia, ricordiamo la famosa il battito d'ali di una farfalla che poi produce un ciclone in California. Ecco questo legame de facto oggi deve diventare una scelta, altrimenti se non diventa una scelta diventa una condanna. Infatti la ragione di una pandemia che ci ha distrutto nasce dalla disattenzione per una globalità solo, diciamo, di efficienza e non di solidarietà. Un mondo troppo largo ci ha costretti a rinchiudersi, ad isolarci e questo ci ha reso più deboli, più fragili, sia nella pandemia ma anche adesso nella guerra. La divisione rende più fragili. Ecco perché io direi che la forza della fragilità è una forza che nasce dalla consapevolezza che l'unione dei fragili ci rende davvero molto forti. Non so se questo si può dire in maniera sloganistica, ma non c'è dubbio che il monoteismo dell'io, la egolatria, direbbe Giuseppe federita, o l'io come re, cade ai piedi d'argilla, cade al minimo, come dire, problema della globalizzazione, fino a distruggersi, anzi a cercare la pace dopo essersi distrutti. Ecco io invece credo che la fragilità ha dentro di sé una sorta di, se accolta e compresa, di una nuova etica, l'etica della responsabilità vicendevole, l'etica della cura, di fronte alla guerra, di fronte alla pandemia, di fronte alla prossima prova, quella delle cavallette, non so che cosa potrà avvenire, l'unica vera salvezza è il prenderci cura gli uni degli altri, perché è da questa reciprocità che nasce un nuovo umanesimo o nuovi umanesimi. Ecco, questo voglio dire, come diceva prima bene il professore Calcati, nessuno autonasce, nessuno si autobattezza, tutti noi nasciamo per l'incontro tra due persone. Questo, come dire, questa fragilità iniziale che è il grande dono della vita è subito un noi, non c'è un io assoluto e questo dovrebbe insegnarci tante cose. Poi, il professore Calcati, non voglio sottolineare la sparizione del padre o della madre o viceversa. Grazie Vincenzo, intanto hai aperto in questo tuo intervento anche una dimensione che è presente nel libro e che è una dimensione politica, politica nel senso più alto del termine, non nel senso appunto della logica quotidiana parlamentare o partitica, nel senso che tu nel libro dici esplicitamente che di nuovo appunto questa interconnessione che si è resa così evidente negli ultimi due anni per via della pandemia ha messo un po' come dire a nudo tutti i limiti delle visioni sovraniste che invece come dire avevano dominato l'attenzione. Da un certo punto di vista il fatto che ai noi c'è una guerra dentro casa purtroppo sembrerebbe ricordarci che invece ancora la lettura che tu proponi non è così entrata nelle teste, nei cuori di tutti e tuttavia di nuovo lo scenario che stiamo assistendo ci ricorda l'interconnessione perché la difficoltà anche come dire di fare scelte, la difficoltà strategica, operativa, politica in cui i paesi europei, il nostro piccolo, si vedono appunto coinvolti in questo periodo è proprio legata dalla consapevolezza che c'è un legame fortissimo di tutti con tutti. Passerei alla dimensione politica sociale a una dimensione invece un pochino più legata all'individuo professore sia per iniziare a dialogare un po' anche con i nostri ascoltatori, una persona voleva sapere da lei se nella sua esperienza è cresciuto il disagio psicologico e se ci vuole dire, come dire, se c'è una particolare coloritura di un disagio anche nuovo a cui si assiste in questo periodo. Un altro punto in cui la volevo sollecitare io invece perché è troppo agghiotta l'occasione è legato a due figure mitologiche che sono centrali anche per il discorso della psicanalisi a cui fa ricorso Monsignor Paglia nel suo libro e sono le figure di Prometeo e di Narciso due, come dire, modelli di comportamento entrambi pericolosi. Volevo sapere appunto se si è riconosciuto in questa lettura di Monsignor Paglia se ci vuole dire qualche cosa su cosa è diventato il narcisismo oggi, se è meno pericoloso che in passato se, insomma, volevo avere il piacere di sentire da lei un po' una lettura di questa parte anche della riflessione di Monsignor Paglia. Non la sentiamo? Provo a dare delle risposte rapide a tutte e tre le questioni permettendomi anche però di fare una piccola sottolineatura sulla dimensione politica del testo di Monsignor Paglia perché mi sembra che lì, come dire, ci sia ci sono due indicazioni molto preziose la prima indicazione fa perno sulla cura noi non dobbiamo dissociare la cura dalla politica cioè non dobbiamo pensare che la politica possa esistere senza implicare una pratica di cura e quando diciamo Monsignor Paglia lo dice meglio nel libro quando diciamo che il prendersi cura è un destino possibile della fragilità significa che la cura impedisce ogni volta alla vita umana di essere spersonalizzata in un numero quando c'è cura l'altro, quello di cui io mi prendo cura, non è mai un numero ma assume come diceva Francesco in una sua enciclica assume il valore di essere immensamente sacro immensamente sacro è l'altro a cui noi ci dedichiamo quando c'è cura le singolarità sono tutte messe in valore la politica ha bisogno della cura per non inaridirsi ed essere solo il luogo dove si trasmettono numeri si quantifica la vita si spersonalizza la vita accade anche nella guerra si fanno dei numeri quanti civili, quanti soldati, quanti carri armati ma dietro il numero c'è sempre un volto come dice un filosofo c'è sempre un volto e il volto è il segno del carattere immensamente sacro della vita questo è un primo punto un secondo punto molto importante è una lettura molto direi identica a quella che Pasolini fa della prima lettera di San Paolo e Corinzi quando Paglia fa a suo modo però insomma molto convergenti in cui si dice che la politica si fonda sulle grandi parole della fede e della speranza ma se queste due parole restano dissociate dalla terza parola che è quella dell'amore diventano mostruose semplicemente mostruose perché sono nella bocca di Putin le parole della fede e della speranza di una grande Russia del recupero della restaurazione dell'impero del recupero dei propri territori la fede e la speranza è l'amore che come dire impedisce che queste due parole si rivelino mostruose la domanda del vado in ordine la domanda della nostra ascoltatrice quella domanda risponderei così che per un verso è evidente che il disagio aumentato coinvolge soprattutto dal punto di vista psichico le nuove generazioni e soprattutto sintomi come l'attacco di panico come lo stato d'ansia come la somatizzazione come i passaggi all'atto autolesivi come la depressione che ha investito profondamente il mondo giovanile mentre noi siamo abituati a pensare che la depressione come dire accompagni la vita nel suo declino e invece il covid ha esasperato una tendenza che era già in atto prima cioè sono i giovani che soffrono maggiormente di depressione e questa sofferenza è legata alla mancanza di senso della vita diciamo la vita non acquista senso e se la vita non acquista senso la depressione è la risposta alla caduta del senso al tempo stesso però direi che sarebbe un gravissimo errore è un punto su cui io insisto molto nell'etichettare questa generazione come la generazione covid non esiste nessuna generazione covid esiste un disagio che deve essere curato con attenzione ma se noi introduciamo il termine nefasto di generazione covid noi trasformiamo la sofferenza in una vittima mettere l'abito della vittima significa mettere un abito torbido che impedisce l'assunzione della responsabilità io ho due figli adolescenti quindi so quanto hanno sofferto ma non penso che siano generazione covid penso che il loro compito sia rendere generativo quello che hanno vissuto perché la formazione non è lineare non è mai come salire una scala un piolo dopo l'altro la formazione è fatta di inciampi di incidenti di cadute da cavallo è fatta di urti è fatta di fallimenti e dunque è fatta anche di prove come quella del covid è una prova assolutamente difficile epocale per certi versi ma ecco io non identificherei questa generazione come la generazione covid la terza questione ricordamela la terza prometeo e narciso ecco in realtà il nostro tempo è il tempo di narciso innanzitutto lo dice anche Paglia questo è il tempo di narciso su questo c'è una grande convergenza di autori molto diversi tra loro cosa significa dire che il nostro tempo è il tempo di narciso beh se ci pensate e qui rubo un po' il mestiere di Monsignor Paglia se uno prende la Torah c'è un solo peccato nella Torah è vero che uno può dire non è vero c'è una moltiplicazione di peccati perché si moltiplicano i precetti e ogni cosa che uno fa deve stare attento ma in realtà se noi andiamo veramente al sodo c'è un solo grande peccato che è la sola grande follia dell'umano di cui la Torah parla in continuazione che è quella di credersi Dio di voler farsi Dio il criterio di essere Dio che dal serpente tentatore non a caso evocato da Monsignor Paglia nel suo libro anche se rapidamente dalla tentazione del serpente non è tanto assaggiare l'oggetto proibito non è quello il punto il punto è farsi come Dio farsi essere Dio allora questo ma questo si vede in Putin esatto Putin è la realizzazione di questa tentazione di farsi Dio la bomba atomica che cos'è? sono come Dio decido della vita e della morte di tutti allora questa deificazione è diciamo la forma estrema del narcisismo la forma maligna del narcisismo e io penso che sia un tratto del nostro tempo di quello che io chiamo appunto il tempo ipermoderno concludo su questa parola che diciamo sì Paglia citta di Poveschi che è un autore per me importante che usa questa questa espressione di ipermodernità il significato che io do a questo termine è molto semplice se pensiamo alla modernità con Kant noi pensiamo che la modernità cioè il tempo dell'illuminismo è stato il tempo in cui l'essere umano la ragione critica si è emancipata dalla superscrizione religiosa nel senso deteriore del termine dall'irrazionalità delle tenebre diciamo dell'irrazionalità e quindi è un processo di emancipazione no? l'io ha guadagnato la propria autonomia critica l'ipermodernità consiste nella trasfigurazione narcisistica di questa autonomia cioè l'io diventa come Dio l'io diventa un Dio siamo di fronte ecco il tema biblico siamo di fronte alla natura perversa del desiderio umano la Bibbia non è mai morale almeno io sono un lettore ma non c'è mai moralismo nella Bibbia ma diciamo c'è l'idea che l'umano si ammala quando rigetta la sua fragilità non è la fragilità la malattia ma questo guardi che ha un valore anche clinico quando i pazienti stanno male quando si credono degli io quando sono troppo attaccati al loro io quando stanno bene quando fanno amicizia diciamo nel modo semplice con la loro fragilità vanno meglio questo ci rassicura molto e la ringraziamo io continuo lì continuo sulla scia di Massimo Calcati dicendo che in effetti questa volta faccio il prete in effetti Narciso è il primo santo del calendario forse anche l'unico direbbe Steiner che è l'unico santo venerato sul cui altare si sacrifica tutto anche gli affetti più cari per questo io credo che dire che la fragilità non è un'anomalia dire che il limite è la condizione umana è come dire deve diventare un patrimonio comune di tutti della scienza della politica dell'economia della spiritualità della cultura ecco perché io credo che ci troviamo di fronte ad un cambio di epoca dice Papa Francesco perché quando il professore Calcati ricorda l'atomica e noi per la prima volta nella storia l'uomo può distruggere tutti gli altri la seconda ondata il tema dell'ecologia con la distruzione dell'ambiente noi possiamo distruggere l'intero creato c'è poi una terza prospettiva che nel libro accenno tutte le nuove tecnologie convergenti ed emergenti dall'intelligenza artificiale dintorni che possono davvero trasformare l'uomo in una macchina ecco perché la dimensione della fragilità o del limite diciamo così è davvero il come dire la la prospettiva più umanizzante e quando si accenna appunto all'amore come cardine anche della libertà e della e dell'uguaglianza per me è molto vero perché la famosa affermazione la mia libertà finisce dove inizia la tua e non è più vera dobbiamo essere liberi solidarmente congiuntamente ecco perché io ho voluto sottolineare un aspetto cioè aggiungo al termine fraternità anche 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 l'altro termine amicizia perché una fraternità malintesa può diventare omicida dire che il popolo russo e il popolo greco sono un unico popolo o anche che sono popoli fratelli ma deve esserci anche una fraternità amicale segnata dall'amore ecco perché è un tempo questo particolarmente prezioso per riflettere per dibattere ecco questo nostro piccolo incontro io lo sento anche come un piccolo aiuto per sostenerci tutti in una nuova visione che deve arrivare ed è per me triste assistere assistere ad esempio a tanti dibattiti adesso anche sulla guerra però che sono privi di una visione quale Europa quale mondo vogliamo dopo quello che sta accadendo non può esistere un cessato il fuoco senza una visione che sia una visione di fraternità plurale una visione della amicizia tra i popoli a me ha fatto sempre impressione un'affermazione qui parlo soprattutto per i credenti per i cristiani un'affermazione di un grande patriarca Tenagoras quello che si abbracciò con Paolo VI negli anni 60 rompendo una divisione e lui diceva chiese sorelle popoli fratelli noi possiamo dire chiese divise popoli divisi ecco bisogna dare anche al termine fraternità un valore di quella amicalità Aristotele diceva che la polis si fondava sull'amicizia ecco un po' su questo io credo che la politica l'economia e il resto compresa la Chiesa dovremmo riflettere con maggiore attenzione perché ha ragione recalcati nel dire che la Bibbia non è morale la Bibbia è storica ed è la storia che ci salva se è una storia non di Narcisi o di Prometei ma la storia di fratelli che cercano di amarsi e di sostenersi di qui il termine della cura che prima veniva evocato grazie Vincenzo io volevo girarti una riflessione una domanda di Pierluigi che ci scrive e approfittare di questa domanda che ora ti farò per chiederti anche un commento sulla tua ultima attività sulla tua ultima esperienza appunto legata al mondo degli anziani ci chiede Pierluigi se la presa di coscienza della necessità della cura di cui stiamo parlando è stata assimilata davvero o se invece non è stata una parentesi appunto emergenziale che già come dire sta tramontando e appunto approfitto di questa domanda per chiederti Vincenzo che lezioni stai traendo che riflessioni stai facendo da questo tuo confronto ancora più serrato che in passato ovviamente tu di anziani ti sei occupato molto anche negli anni passati ti volevo chiedere nella tua esperienza con l'RSA con le tante occasioni di incontro che hai avuto con le scelte anche politiche a cui si sta lavorando che riflessioni ci vuoi restituire su questo punto ma una battuta che è un po' diversa da quella che ha fatto il Papa durante il Covid io amo dire che siamo tutti nella stessa tempesta ma in barche differenti ci sono alcune barche molto più fragili come quelle degli anziani che sono state spazzate via in una maniera incredibilmente senza ostacoli e in effetti questo è avvenuto perché perché manca la cura per un verso la società ci ha allungato la vita di 20-30 anni per l'altro verso non sa come mantenercela ecco la sfida di come prendersi cura degli anziani del nostro paese non offrire qualche servizio ma visto che viviamo tutti 20-30 anni in più in una prospettiva di infagilimento è urgente che la società si attrezzi permettetemi questa parola per prendersi cura di tutti e accompagnarci nei nostri lunghi anni di infragilimento appunto prenderci cura di uni gli altri e la società dei più deboli in questo la parte degli anziani per certi versi è quella più fragile ed io mi trovo in una condizione davvero un po' singolare di un religioso anzi di un di un vesco che dirige un dicastero vaticano di essere anche a Palazzo Chigi responsabile di una commissione che deve riorganizzare la politica degli anziani però qui vedo una strana alleanza ho accolto questa sfida perché vedo che oggi non possiamo stare tanto a dibattere sulle competenze oggi oggi c'è un'alleanza comunque da fare tra tra tutti per poter prendersi cura e sollevare e aiutare coloro che sono i più fragili anzi gli anziani nella loro fragilità ci dicono che tutte le età sono fragili compresa quella giovanile e questo è un cambio di cultura grazie Vincenzo mi vengono in mente alcune discussioni che abbiamo fatto insieme durante la gestazione del libro intorno al mito della salute perfetta ti ricordi Vincenzo la condivido anche con Massimo con chi ci ascolta noi avevamo letto insieme questa definizione di salute dell'organizzazione mondiale di sanità poi è cambiata dire ora il professore la domanda è al professore Calcati questa no nel senso che come dire un incentivo alla nevrosi quella definizione nel senso che nessuno si può definire in salute se la salute appunto è legata a quella definizione appunto di mancanza di qualunque forma di malessere allora mi collego anche a quanto diceva adesso appunto Monsignor Paglia sull'allungamento medio della vita che è una cosa ovviamente straordinaria e che però necessariamente ci mette a confronto con una lunghissima stagione in cui la salute perfetta non è pensabile di averla e ricordava appunto Monsignor Paglia che in realtà appunto le fragilità esistono in tutte le fasi volevo sollecitare appunto su questo il professor Recalcati questo mito della salute perfetta ora ci spostiamo ma apparentemente dal tema quanti danni ha fatto e quanti danni continua a fare insomma già l'espressione se ci pensate diritto alla salute è un'espressione in sé molto contraddittoria perché il diritto alla salute non è che noi lo possiamo assicurare anzi fa parte della vita stessa il rischio di una malattia nell'atrocità la malattia che colpisce i bambini per esempio dov'è il diritto alla salute lì c'è una fatalità c'è qualcosa che noi non possiamo governare ho evocato prima la figura di Giobbe che tra tutte è quella che più incarna questo paradosso di una sofferenza che non ha legge quindi quando noi invochiamo il diritto alla salute in realtà stiamo formulando qualcosa di profondamente contraddittorio il diritto non può essere alla salute il diritto deve essere alla cura quello lo possiamo assicurare noi possiamo assicurare il diritto alla cura e come fa notare giustamente Paglia questo è un tema a me molto caro facendo supervisione clinica in certi hospice per esempio che si occupano proprio di accompagnare la vita alla sua fine diciamo noi lì vediamo bene che la cura prosegue quando la terapia ha esaurito le sue possibilità cioè che la cura e la terapia non sono le stesse cose così come non è la stessa cosa la cura e la guarigione come dire noi vediamo a volte che la terapia ha esaurito la sua potenzialità diciamo benefica ma resta la cura e la cura è ciò che umanizza diciamo così la relazione con l'altro e noi dobbiamo preservare la cura quindi non garantire un astratto diritto alla salute ma garantire un concreto di ripeto una cura che esorbita sia la dimensione della guarigione sia la dimensione della terapia aggiungerei un'altra cosa ma qui proprio riguarda il mio mestiere ma se uno di voi prendesse l'ultima formulazione dei disturbi mentali il DSM beh tutti noi qui noi 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 quattro noi tre tre più uno quattro diciamo tutti noi e tutte le persone che ci ascoltano saremmo dentro questo manuale quindi allora da una parte c'è l'idealizzazione della salute dall'altra parte c'è la medicalizzazione della vita cioè quando un bambino per esempio in una scuola elementare appare particolarmente vivace difficile da disciplinare la diagnosi di bambino operativo non se la prende una bambina che ha una fobia alimentare diventa anoressica un bambino che fa fatica ad apprendere rivela una dislessia una discalculia noi siamo di fronte anche ad una esasperazione della medicalizzazione della vita mentre noi dovremmo sempre ribadire il concetto per cui tutti siamo fatti in modo strano in modo diverso in modo un po' disturbato il problema è rendere il disturbo fecondo non pensare che la salute sia la soppressione dei cosiddetti disturbi che poi sono i nostri talenti in realtà se uno va proprio a spingere a fondo le cose cioè le mie anomalie le mie bizzarrie parlo dal punto di vista mentale sono anche le mie risorse come dice Paglia la mia fragilità è preziosa in quanto tale in quanto fragile nonostante la fragilità ecco noi dovremmo veramente liberarci di un concetto di felicità che è un concetto conformista mentre ciascuno di noi ha il diritto di avere una misura singolare della sua felicità perché solo nei regimi totalitari esiste un solo modo di essere felice e che viene imposto tra l'altro in modo solitamente violento appunto e repressivo io intervengo solo per salutare quanti ci ascoltano mi presento sono Dario Bassani il social media manager degli editori La Terza per dire che purtroppo Lia di Trapani la nostra editor ha avuto un problema di carattere tecnico e che quindi non potrà continuare a moderare questo bellissimo dialogo che stiamo tutti seguendo quindi io ringrazio moltissimo il professor Recalcati e il Monsignor Paglia che insomma ci hanno dato molto su cui pensare in questo momento e insomma se non avete altre cose da aggiungere io fermerei qui la conversazione no magari se Monsignor ci congeda con una ultima riflessione io preferirei no io volevo legarmi all'ultima all'ultima affermazione al professor Recalcati noi corriamo il rischio di aver come dire romanticizzato l'amore e romanticizzata persino la salute cioè l'abbiamo come strappata dalla storia e la storia è un complesso di come dire di debolezze di ricchezza di fragilità di di emozioni ed è in questo senso allora che forse la cosa l'affermazione più bella che io vorrei lasciare più bella affermazione bella che ecco lì è tornata l'affermazione bella che io vorrei fare anche vedendoci finalmente noi tre come la faceva un bravo gesuita francese desertò mai senza l'altro adesso non voglio dire mai senza noi tre allarghiamo mai senza l'altro è un modo per capire meglio e per vivere meglio questo nostro tempo quest'epoca che ha bisogno in effetti di uno scatto di riflessione e anche di cura grazie vincenzo mi scuso per essermi assentata per qualche minuto ma a proposito di fragilità dopo due anni di collegamenti di zoom e di dirette i miei limiti rispetto alla tecnologia sono assolutamente identici vi ringrazio davvero molto è stata una discussione molto stimolante che lascia a me ma credo lascerà tutte le persone che ci hanno ascoltato con questa convinzione della necessità di non limitarsi alla tecnica di non limitarsi a uno sguardo corto e mi pare che l'esortazione che è arrivata forte e potente è quella appunto di richiamarsi ai valori dell'etica ai valori della comunità ai valori della politica e aggiungo ai valori dell'ascolto e del tentativo di capire la complessità di quello che c'è dentro di noi e intorno a noi anche a questo servono i libri servono i libri che cerchiamo di fare insieme sicuramente è un tentativo come dire di comprendere questa complessità e insieme anche l'esortazione a una risposta possibile il libro di Vincenzo Paglia che tra l'altro ha questa copertina che io trovo bellissima e naturalmente sono strumenti utilissimi per capire molto di noi stessi e degli altri i libri del professor Recalcati che ora le faccio questo piccolo dispetto lei aveva detto non sono qui per parlare dei libri miei ma almeno in chiusura mi lasci esprimere la mia gratitudine perché io sono una sua lettrice molto attenta guardi qui quanti ne ho e quindi è stata veramente un'occasione per me di grande arricchimento e come senz'altro lo è stato per tutti coloro che ci hanno ascoltato fin qui grazie davvero vi ricordo Vincenzo Paglia la forza della fragilità grazie professor Recalcati grazie grazie faccio vedere il libro l'ultimo non ce l'ho ancora ah no pensavo che sia il suo grazie grazie professor e un saluto a tutti grazie davvero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.